musica il quesimo è Pecci a tentare la via del gol Zoff para in uscita e Chiodi viene servito a dovere da De Vecchi sarebbe 2-0 se Zoff come sostiene qualcuno 45 secondi Milan potrebbe segnare con quest'azione ma Bigon si confonde davanti a Zoff al capitano del Milan capiterà un'altra occasione al novantesimo la via Claudio Sala spetta a Abrio chiamare in causa l'altro Sala e Zoff fuori meccatizio Sala che Zoff toglie dalla testa di Pulici e quindi Dino chi rischia più di questa partita secondo te? stiamo giocando al calcio quindi speriamo sia una bella partita non credo ci siano rischi particolari grazie grazie a tutti grazie a tutti